Eccoci qua un cordiale saluto dal vostro Giuseppe De Vittis. Mentre su buona parte della penisola italiana, al centro e al sud, ancora avremo abbastanza caldo, magari con qualche disturbo sull'appennino centrale, ma roba fugace pomeridiana, al nord ci sarà spazio per della instabilità. Ma guardate la nostra grafica, avremo della nuvolosità che aumenterà i soliti rovesci di pioggia temporali che partiranno su zona alpine, prealpine, però poi dal nord-ovest tenderanno più che altro a scivolare verso il nord-est e a coinvolgere, sì, in parte il nord-ovest, poi la Lombardia e poi scivoleranno verso il Triveneto e ci sarà spazio per della instabilità, soprattutto nella seconda parte della giornata e quindi verso il nord-est, meglio, andrà meglio sul nord-ovest. Questo è lo scenario previsto per la giornata di sabato, in questo weekend, con temperature comunque che stanno aumentando, stanno aumentando un po' su tutta la penisola italiana, però al nord è chiaro che comunque ci sarà una piccola flessione proprio perché c'è questa maggior variabilità, chiamiamola variabilità, ma in realtà è instabilità a tratti anche marcata. Per il momento è tutto, buon proseguimento, arrivederci!